I radicali hanno scoperto che le missive scritte dai detenuti ristretti nel carcere di Salerno non giungono a destinazione o comunque il servizio viene garantito con gravi ritardi. La responsabilità sarebbe di poste italiane. I radicali hanno chiesto ai detenuti in tutta Italia di aderire simbolicamente con una lettera e col digiuno alla marcia per la ministria che si terrà a Roma il prossimo fine settimana e si concluderà a Piazza San Pietro. Ma le lettere da Salerno a Radio Radicale non sono mai arrivate. Da tutte le carceri sono arrivate le lettere al partito posto ordinare, dal carcere di Salerno non è arrivato nulla. Siamo andati a prenderle perché nonostante che l'amministrazione penitenziaria svolga tutto il ruolo che gli è preposto nell'arco delle 24 ore, quando arriva in mano ai signori della direzione provinciale delle poste di Salerno o si smarrisce o non arriva. O peggio ancora, la posta in entrata da parte dei propri familiari non arriva ai detenuti, che è gravissimo. Quindi è un disservizio. Un disservizio gravissimo che lede il diritto costituzionale. È grave, ma molto grave. Tant'è che chi ha necessità di parlare con i propri familiari attraverso lettere lo fa mandando un raccomandante con ricevute di ritorno, che quelle puntualmente arrivano. Ma lo può fare solo chi ha i denari all'interno del carcere. Sono 407 i detenuti attualmente in carcere a Forni. 407 sui 380 previsti. Dunque, almeno apparentemente, nessun sovraffollamento. In realtà, la gran parte dei detenuti si trova nella sezione reati comuni. Ti accorgi che ci sono 67 in alta sicurezza, più 42 al femminile, più una decina di 6 mili e quindi siamo su intorno a 120. Tolti i 120, il resto tanno tutti nella sezione dei comuni. Sono tutti pressati là dentro su 407 e sono reati comuni, tossicodipendenti, migranti, poveri cristi, che non hanno i soldi né per approvvigionarsi dei farmaci, perché in carcere i farmaci si pagano. Perché l'ASD non ha tanti farmaci da superire all'esigenza dei detenuti. Perché il cibo in carcere lo devi pagare. Perché quello che portano dal vitto è scarso e di qualità pesce. Numerose le istanze inoltrate al parlamentare Ragosta e dall'assessore comunale Maria Rita Giordano. Le istanze maggiore sono a mio avviso istanze basilari, proprio per una qualità della vita decorosa. Come per esempio un'istanza era tenere l'uncinetto un paio di ore in più la sera, perché lì il tempo si ferma. Ovviamente questo per chi sta in una condizione di detenzione è fondamentale. Oppure maggiore attività extra, come per esempio lì funziona molto bene la scuola alberghiero, il corso di decoupage di ceramica. Un maggiore accesso, perché giustamente sono tanti, il numero purtroppo deve essere per ovvie ragioni ristretto. E giustamente l'adeguamento della struttura polivalente per avere più spazio nella cosiddetta ora d'area, oppure nella struttura del verde per accogliere i bambini, perché giustamente mi diceva un non detenuto, noi e i nostri figli abbiamo detto che qui lavoriamo e quindi diciamo accoglierli anche in un contesto un po' più allegro.